bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi brutta situazione sì brutta situazione perché purtroppo nelle ultime ore non è arrivato nulla di interessante per quanto riguarda il futuro di fortnite non sappiamo cose particolari abbiamo visto l'arrivo delle ccfn in italia le fortnite championship series in inglese abbiamo visto anche che qualcosa si sta muovendo che questa settimana arriveranno le ultime sfide di deadpool e quindi otterremo la skin ma nel video di oggi volevo però farvi vedere dei miti e delle leggende di questa season molto molto interessanti prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul video delle 13 e 30 ma andiamo appunto a vedere piano piano nel dettaglio questi miti e leggende non prima però di avervi fatto la domandina lo sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi dai ragazzi è molto molto personale molto anche facile ma che livello sei arrivato noi ragazzi siamo al 45 per cento del completamento di questa season 2 del capitolo 2 il 29 aprile finisce vi ricordo una volta passato il livello 100 ci sarà tutta la grande salita per dorare le skin degli agenti io sono al 168 ho shoppato 44 livelli l'ho fatto l'ho fatto perché volevo vedere se fosse possibile oppure no raggiungere il 300 dimmi invece a che livello sei te qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e bando le cianci e andiamo subito a vedere il primo mito di oggi è possibile avere la visuale in prima persona dell'elicottero beh ragazzi guardate un pochettino quello che vi sto per far vedere praticamente se noi con il nostro elicottero partiamo da qualsiasi elicottero e raggiungiamo l'isola di spawn quindi l'isola dove siamo tutti i lobby all'inizio ad un certo punto accade qualcosa di molto molto curioso guardate un pochettino mentre stiamo per raggiungere l'isola per colpa di un bug grafico sbronk cambia l'inquadratura e lo vediamo in prima persona è molto carina e molto interessante come cosa non è più possibile poi però purtroppo tornare in terza persona quindi direi assolutamente che la possibilità di avere la prima persona nell'elicottero è verificata ed il primo mito è sfatato e andiamo avanti ragazzi con il secondo mito di oggi è possibile prendere una barca con il rampino di skies lo sapete ragazzi il rampino mitico che si trova in giro gli hanno fatto un piccolo nerf nell'ultima patch ridotto anzi aumentato il delay tra un colpo e l'altro volevo anche qua farvi vedere ragazzi andiamo a dare un'occhiata e come vedete direttamente dall'elicottero noi riusciamo ad aggrapparci a una barca ma purtroppo non è assolutamente possibile nonostante il rampino sia quello mitico tirarla su e quindi ragazzi niente da fare questo mito invece è da sfatare non è assolutamente possibile tirare su una barca però c'è un bug sempre con lo stesso rampino che se voi avete un guidatore della barca e voi fate i passeggeri non so se l'hanno fixato secondo me ancora no e continuate a rampinare sulla barca piano piano pigliate il volo provatelo ve l'avevo già fatto vedere in qualche video dategli un'occhiata che è molto interessante e andiamo avanti ragazzi con il prossimo mito di oggi è possibile dare vita all'elicottero con lo slurp c'è scritto anything perché dopo voglio far vedere una cosa molto curiosa e anche qua ragazzi allora spostiamoci e diamo un'occhiata siamo al putrido io chiamo ancora putrido pantano se noi con l'elicottero ci avviciniamo e proviamo a prendere i barili quelli ad esempio che sono sopra il ponte purtroppo come vedete non succede niente la salute dell'elicottero rimane assolutamente uguale però possiamo andare a provare invece dove ci sono i due mega barilozzi le due cisterne di slurp utilizzando le pale dell'elicottero li danneggiamo e andandoci vicino aiutandoci ovviamente cambiando di posto con il piccone anche qua purtroppo niente da fare l'elicottero non prende salute e per concludere se ci avviciniamo al camion della slurp il risultato è sempre lo stesso quindi non è purtroppo possibile dare salute all'elicottero con lo slurp che è presente non è neanche utile atterrare nello slurp di pantano perché anche lì non ci viene data assolutamente la salute ma andiamo avanti con un altro mito per questo capitolo 2 di fortnite che cavolo succede se si lancia la clonazione le granate colazione no colazione le granate clonazione sopra i launchpad beh ragazzi qualcosa di carino invece succede e come vedete noi ci proviamo siamo già pronti con la granata se noi la spariamo di prepotenza come vedete praticamente i cloni vengono proiettati in alto e automaticamente aprono giustamente direi il paracadute la cosa curiosa è che ovviamente non si muovono e continuano andare su e giù col paracadute ora io non so bene l'utilità di una roba del genere sicuramente è molto molto divertente però non serve affatto a nulla e quindi ragazzi un po di miti li stiamo sfatando ma ne ho ancora due che voglio farvi vedere il primo ragazzi ci dice cosa succede invece se io lancio le granate clonazione in mezzo alle lame dell'elicottero eh sì ragazzi perché voi lo sapete noi lo sappiamo se ci finiamo con il nostro personaggio dentro le lame dell'elicottero prendiamo danno e questa cosa non va assolutamente bene ma guardate invece se noi riusciamo a lanciare le granate clonazione in mezzo alle lame devo darvi una brutta notizia non succede assolutamente nulla è un peccato perché le i nostri cloni attraversano le lame riusciamo possiamo tirarli in qualsiasi direzione purtroppo non accade assolutamente nulla e quindi rimane semplicemente così nel nulla la possibilità di lanciarli ma prima di salutarvi voglio farvi vedere l'ultimo mito di oggi che invece è una cosa molto molto interessante e ci chiedono nuovamente è possibile utilizzare un campfire invece per ridare la salute all'elicottero ragazzi guardate un pochettino che non è male questa cosa se noi ad esempio sempre a bordo dell'elicottero raggiungiamo un fallo in questo caso siamo a rapide rischiose ci atterriamo sopra guardate come succedeva per il brutus noi possiamo utilizzare il campfire per ridare vita all'elicottero ora a 1500 di vita quindi diciamo che più o meno ci vuole parecchio per riuscire a riportarlo al 100% però se dovessimo per caso avere questo estremo bisogno sicuramente un buon metodo è quello di utilizzare il campfire insomma ragazzi le notizie non ci sono ma l'oxiderone i video cerca di portarveli sempre non è stato male rispondere a questi miti se volete dirmi qualche mito che io non conosco scrivetelo pure qua sotto nei commenti io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao 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 ciao